È sempre emozionante conoscere un nuovo membro della famiglia, in particolare un nuovo fratello dell'affermato misuratore di portata Rosemount 8800 Process Vortex. Gli somiglierà, funzionerà altrettanto bene. Ecco il misuratore di portata Rosemount 8600 Utility Vortex. Come il modello 8800 è progettato per soddisfare esigenze di applicazioni specifiche. Il modello 8600 Utility Vortex offre tutti i vantaggi della tecnologia Vortex, con installazione semplificata, punti di trafilamento ridotti ed inferiori costi di manutenzione. È stato progettato specificamente per le temperature e le pressioni caratteristiche delle applicazioni di Utilities e per la misura di portata, dove si rivela una soluzione affidabile e conveniente. Il misuratore 8800 Process Vortex primeggia grazie a funzionalità impareggiabili per tutte le applicazioni, incluse quelle che nessun altro misuratore Vortex è in grado di gestire. Il design realizzato interamente per pressofusione, privo di punti soggetti a sporcamento e guarnizioni, aumenta la disponibilità degli impianti ed elimina le perdite. Gli esclusivi sensori rimovibili in linea consentono la sostituzione rapida senza interruzione del processo. La famiglia estesa di prodotti Vortex di Emerson offre un portafoglio ineguagliato e su misura per soddisfare ogni applicazione, dai fluidi puliti ai fluidi più aggressivi. Offriamo la più ampia gamma di soluzioni Vortex per soddisfare qualsiasi requisito. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.emersonflowsolutions.com www.emersonflowsolutions.com www.emersonflowsolutions.com